Conseguire il pareggio di bilancio, valorizzare i beni immobili che fanno capo all'ente, promuovere con i media i servizi, rinnovare la convenzione con i comuni di Sulmona per la gestione del complesso monumentale dell'Annunziata. Sono queste le primissime priorità indicate questo pomeriggio dall'avvocato Armando Valeri, che dopo rituale passaggio di consegne ha assunto la presidenza dell'ASPO numero 2 della provincia dell'Aquila. Valeri, 39 anni, intende subito procedere con una ricognizione delle risorse e dei beni a disposizione dell'ex Casa Santa dell'Annunziata per raggiungere poi degli obiettivi a medio e lungo termine, primo fra tutti una residenza sanitaria assistenziale con assistenza domiciliare, semiresidenziale o residenziale per disabili. Comprendere le criticità di questo ente è così importante, comprendere il percorso che si è avviato con la riorganizzazione dall'IPAB ad ASP a che punto siamo, comprendere a che punto sono mesi e quali sono le criticità delle quattro strutture che compongono questo ente, questo ASP e quindi Centro per gli Immigrati, Casa di Riposo di Sulmona, Casa di Riposo di Roccaraso e Asilo Regina Margherita. Una volta comprese queste problematiche, dopo di che affrontarci sull'attivo, dedicarci all'attivo di questo ente che è pure vastissimo e quindi capire il livello di redditività di questo attivo, farlo fruttare il più possibile. Per poi individuare subito delle figure di supporto che sono previste dalla legge istitutiva dell'ASP, quindi direttore e direttori di struttura, sempre senza gravare troppo sulle risorse dell'ente. Da oggi l'avvocato è entrato a pieno regime alla guida dell'ASP insieme ad altri due componenti del CDA, Marcello Soccorsi e Gianni Damario. Alla sopra e recessore Valeri ha rivolto parole di gratitudine e di stima. Dopo settimane di polemiche e di fuoco, ora torna il sereno.